Avvocato! Hey George! Grazie eh! Adesso si che vado veloce! Eh veloce eh! Non qui! A casa! Nel mio studio! E come hai detto tu! Con Passweb fila tutto liscio! Oh! Ciao! Mega internet e telefono fisso a 29 euro al mese per un anno. La scelta giusta per la casa, il lavoro e chi ha la partita IVA. Eh! Vuoi un umano? Fai un passo avanti. Passa a Passweb. Regaliamo! No! No! Si! Ah!